Magghe è un dream, è scena! E' una madre davanti, è fico! E' sveglissimo! S'ha venuto in questo non è un setax, oggi siamo qui in compagnia di Marquez e toglia fico che non riesce a fare il parkour perché è scemo Qualcosa? Va bene, basta che si senta la sua voce Professionalità ovviamente ti ho fatto la intro e io arrivo no, grazie che trinchezza vabbè, ritorno nel party e vabbè, siamo pensati come un campagnolo ma adesso andiamo a vincere qualche partita sì, perché oggi torniamo nelle skyworks più forti di prima ci vediamo in partita eccoci qua in party beef andiamo, se metterò la coccinella paramello quel bronco centrale mi piace ma quella coccinella è su una foglia di marijuana o sbaglio? è vero Osvaldo, non Osvaldo eh Osvaldo is in this way raga avete un pochino di armatura per me sì, io ho trovato io qualcosa ho trovato qualcosa ho trovato eh, io ho 3 secchi dai 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 let's go to the cucinelli beef ma non c'è nessuno che povera questa coccinella raga ma volete nell'acqua? io ce l'ho è vero ma che prendi nemmeno ma dove l'acqua? eccociata lì per terra è qua taglia fico andiamo da stimola? 1,2,3,4,5 sì buona ah, attento, 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 ma poi giù ahahahha ma no, ma poverino che è subito anche questo è un barbone cacchio è mortale a che il più due assist ma c'è un altro io non avevo mai ha fatto il più danno io al primo però taglia guarda quanto schifo che ti troppo vieni qua no 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 mi serviva hai detto che non ti serve ma non avevo visto i pantaloni sei ritardo io ho un secchio di lavoro uno di acqua e uno di beef perché non mi fate vedere niente non stanno per mettere l'acqua e te una che sono schizzate ai altri ma basta vittorio schifo si toglierà si diverte a ingozzarsi di ste cose ma texys sono le otte perché tua nonna mi ha nominato finisce la partita città zitto la texys sono le otto e mezza 10 antico la subito ragnatela lasciato fare come la c'è da fare quando la mia quadri sono morto io arnotte negro ma perché sono caduto nella lava che comparsa borsi ayaka che la città città tutte e tre è imprendibile è imprendibile finita la volante sbaglio ha stravolato è un barbone e ma la tua acqua sa dove viva via e non dico precisare indietro mi bianco si lei ma sono col chain qua c'è altra negra gine bisogna prendervi i negri già dico eccolo di prima arrivo perché arriva sempre nella mia di faccia questo stare po ma non sa però è poca vita ma ora lì che l'ho nel culo è esploso si il bravo taglia definizione adatta questo vediamo dove sono stati tizi un sacco di pesce eccole lì vabbè andiamo aspettatemi dei cantaloni in tassino dove vuole faccio andiamo lì capito che gli vuoi venire in faccia ma dove sono ma dove taglia e dove taglia non lo vedete su guardate intorno non lo vedo taglia è morto eccolo la cosa è sempre pulcene sempre più mare va bene non mi vedono neanche non mi hanno visto sti qua guarda se io ma ma non cade è l'altra filtrata sull'isola da andiamo a far tardi 3 contro 2 e moriamo per un po triste un è rifatto non ci può metterla tutto non c'è neanche visto aspetta 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 ci vede 4 figli 4 figli 4 figli Grazie a tutti